Andrea Locicero della squadra nazionale di rugby, state rendendo proprio, possiamo dire, popolare questo sport, siete dei personaggi. So anche che ormai tu vanti più di 100 presenze in nazionale. Sì, diciamo che con difficoltà, perché non riusciamo a vincere tante partite, la gente si sta affezionando a noi. E poi per me è arrivato il fine carriera e passare le 100 partite è un gran bel risultato. E sei qui a Motodesk, perché diciamolo, sei un appassionato motociclista. Che moto c'hai? Diciamo che nel mio contratto sportivo ci deve essere almeno l'utilizzo della Vespa. E quindi, vabbè, ho iniziato alla Vespa, poi sono passato a Motorini, Vespone e adesso moto. C'ho qualche moto, c'ho un GS BMW 1200 Adventure, un R90S, un R80GS, un Moto Morini. Quindi ti piace viaggiare? Sì, 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 sì. Beh, quella che utilizzo sempre è questo BMW 1200 Adventure e poi c'ho un'altra che mi sono fatto customizzare, che è una R90S del 76. Quindi anche tu sei uno delle vittime della customizzazione, eh? Esatto, ebbè, ma è normale, insomma. È il suo bello, diciamolo. Diciamo, il bello, il fascino è il fatto di avere una cosa unica e che non ce l'hanno altre persone. Perché è una moto classica, uscita dalla fabbrica, è per tutti uguale. Il fatto che tu puoi farti una moto è come meglio credi e con quello che ti piace a te, insomma, è ancora più bello. Sì.